La procura di Rovigo ha disposto una consulenza tecnica con accertamenti irripetibili da effettuare durante l'autopsia sul corpo di Irkia Anawi, la 32enne mamma marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dei figli di 8 e 11 anni quando sono rientrati da scuola nella loro casa di Ariano nel Polesine. Dall'esame autoptico si attendono risposte importanti sul giallo della morte della giovane donna che aveva un piccolo foro alla nuca dal quale usciva sangue. Solo dopo il trasporto in ospedale l'attacca ha rilevato la presenza di un piccolo proiettile che dovrà essere analizzato. La ferita è stata letale perché nella tarda serata di mercoledì Irkia è stata dichiarata morta. La procura di Rovigo, che indaga per omicidio, parla di ferimento alla testa presumibilmente a causa di un proiettile. L'incarico dell'autopsia verrà affidato lunedì 3 aprile. I carabinieri intanto hanno sequestrato tutti i fucili del vicino di casa che insieme ai figli della donna ha dato l'allarme. L'anziano è un cacciatore, da un primo esame sembrerebbe che nessuno di questi avesse sparato. Gli investigatori stanno cercando un'arma più piccola, una pistola o forse uno sparachiodi. A terra nel punto in cui la donna è stata trovata agonizzante non c'era sangue. I figli e il vicino si sono accorti della ferita solo quando hanno girato il corpo, tanto che pensavano avesse sbattuto la testa. Il marito della donna invece si trovava al lavoro. L'ultima ad aver visto Orchia viva è una testimone che ha raccontato ai carabinieri di averla annotato. La 32enne martedì mattina accovacciata a terra vicino ad un rudere intenta raccogliere uova. Risalire a che ora e in che punto sia stata colpita potrebbe chiarire molti dubbi.